E piano piano stiamo già consumando tutto questo mese di agosto, 29 agosto al Manacco Oroscopo, oggi San Giovanni Battista e i compleanni. Come non ricordare che era nato oggi il 28 agosto nel 58 il più grande di tutti? Michael Jackson ci ha lasciato nel 2009. Rimaniamo nel campo musicale, Tosca, la cantante e l'attrice, è nata il 29 agosto del 1967. Proverbio, chi vuol vivere sano non deve mangiare prima di avere fame. Ariete, ottimo momento per dare prova di autonomia facendo a meno di protezioni e di appoggi. Marte vi dà coraggio e valorizza la vostra intraprendenza, buoni stimoli per la vita di relazione, dialogo amoroso costruttivo. Toro, molti pianeti vi danno ottimi incentivi per interagire con gli altri in maniera armoniosa, ottima la vostra forma intellettuale, gratificazioni per chi sta studiando, incontri giusti per chi cerca l'anima gemella. Gemelli, sostegni e insperate vi aiutano ad uscire da una nuova emergenza. Marte renderà particolarmente attiva e vivace la vita di relazione, ruoli vincenti in società. Una dimenticanza nasconde un messaggio, interrogatevi, in amore sarete messi alla prova. Cancro, momenti buoni malgrado qualche segno di tensione in campo professionale saranno quelli che viverete oggi. Una persona arrogante vi infastidisce, mantenete le distanze, ottima la vostra forma intellettuale, venere favorisce un dialogo stimolante con chi amate. Leone, prudenza nel concludere accordi e nell'assumervi impegni per il futuro, spirito critico da vivere in modo positivo, non lasciatevi fuorviare dalle polemiche, fortuna per le finanze, in amore leggete tra le righe e cercate di non fraintendere le vere intenzioni del vostro partner. Vergine, ottima la forma psicofisica, grazie a mercurio, venere e sole favorevoli. Buona resa intellettuale, sostenuta da una più forte capacità di captare tutto ciò che sta oltre le parole. Molta la vostra energia, non frenatevi, passate all'azione. Bilancia, le circostanze vi stimolano a dare prova di maturità. Atmosfera propizia per i cambiamenti, estro ed umorismo vi aiutano ad alleggerire le tensioni, rendimento intellettuale piuttosto discontinuo, sfruttate al meglio il tempo libero dando più sapore ai momenti di relax. Scorpione, armonia e senso di benessere nelle amicizie, qualche divergenza di vedute nel lavoro, non arroccatevi su posizioni intransigenti cercando di essere più possibilisti. In amore dovete dare prova di lealtà, mantenendo una promessa e manifestando i vostri sentimenti. Sagittario, una circostanza vi mette alla prova, affrontatela con molta determinazione, potendo confidare sugli appoggi di Marte. Fortunate coincidenze favoriscono le entrate, nei rapporti di lavoro il vostro senso di giustizia vi incoraggia alla distensione. Capricorno, giornata favorevolissima che vi rende particolarmente creativi, pieni di idee nuove, potete esprimervi liberamente, aiutati dagli aspetti vincenti della vostra personalità. In famiglia evitate insistenze, molto meglio non forzare la situazione. Acquario, chiedete e conferma di un accordo prima di fare altre mosse, la cautela vi premierà. Orizzonte economico ricco di novità interessanti, liberatevi di una persona che con la polemica intralcia il lavoro. In campo sentimentale, pazientate per un problema che si risolverà solo tra qualche giorno. Pesci, dinamismo negli scambi e nelle relazioni sociali, qualche contraddizione tra conformismo e voglia di ribellarvi alle regole. Seguite ciò che vi dette alla vostra straordinaria intuizione. In amore apritevi ai cambiamenti, stasera forse ci sarà un incontro molto importante.